Sono passati quasi 40 anni dalla misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi e proprio alcune ore fa è arrivata la notizia che dal Vaticano verranno riaperte le indagini sul caso. Ad occuparsene sarà Alessandro Diddi, promotore della giustizia vaticana, assieme alla gendarmeria vaticana, che andrà a scandagliare tutti i fascicoli, i documenti, le segnalazioni e le testimonianze. Il tutto anche per mettere chiarezza nel caso mettere fine a voce e dilazioni riguardanti il Vaticano stesso. Diddi si dice intenzionato anche a seguire possibili nuove piste. Pietro Orlandi ha preso la notizia dalla stampa e dice queste parole. Noi ne siamo all'oscuro, lo apprendiamo dagli organi di stampa, ma certo è che è da un anno che attendevamo di essere ascoltati. Ci sono cose importanti come messaggi Whatsapp del 2014 in cui persone molto vicine a Papa Francesco parlano di documenti di Emanuela. Ci sono situazioni mai volutamente approfondite. Forse per la prima volta il Vaticano ha deciso di mettere un punto chiave, di arrivare ad una soluzione. E prima o poi si dovrà arrivare ad una soluzione, ne sono convinto. Ovviamente ragazzi, quando ci saranno nuove notizie, vi farò un video per tenervi aggiornati. Ora, come sempre, vi chiedo di iscrivervi qua sotto cosa ne pensate a riguardo. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Ci vediamo con un nuovo video. Grazie. Grazie.